Pierino, chi ti ha insegnato l'educazione? Nessuno, signorina, lo giuro. Tuo padre lo porta il cappello? Sì. Allora qual è la prima cosa che fa appena arriva a casa? Va a pisciare, signorina. Basta, silenzio. Pierino, sei incorreggibile. E tu come ti chiami? Chiappa Antonio. E tu? Chiappa Claudio. E tu in mezzo? E uno che sta in mezzo a due chiappe come vuole che si chiama? Buccio De! Buccio De!